Il cartello preannuncia lavori in corso, ma di lavori nemmeno l'ombra. Da quasi un mese, su Corso Vittorio Emanuele, zona San Rocco, Adariano e Irpino, sono state posizionate transegne al centro della strada per il rischio che l'asfalto ceda. Le evidenti crepe avevano fatto temere all'ufficio tecnico comunale dal comando di Polizia Municipale che la strada potesse nuovamente sprofondare, così come accade nel 2016 ed ancora prima nel 2014, quando la ruota di un pullman vi sprofondò, senza per fortuna gravi conseguenze per autisti e passeggeri. Tutti hanno applaudito al fatto che una volta tanto ci si sia mossi in anticipo, transennando l'area al rischio ed evitando così che il carico delle auto e soprattutto dei mezzi pesanti potesse peggiorare la situazione. Ma ora i cittadini si aspettano l'intervento. Quel tratto, in prossimità dell'ingresso al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane, è molto trafficato. Le transenne, proprio al centro della carreggiata, restringono non poco il passaggio nelle due direzioni e già si sono verificati diversi incidenti, almeno quattro. Anche un centauro è volato giù dalla moto qualche giorno fa. Spesso e volentieri le transenne finiscono a terra, urtate dalle auto e diventano ancora più pericolose. Dunque bisogna intervenire al più presto, anche perché con le piogge il problema, dovuto proprio ad una cattiva disciplina delle acque e quindi ad infiltrazioni potrebbe degenerare.